No, fai il video. No, fai il video. Dai, fai il fulbo. Qua sì, sono momenti artificiali. Cos'è l'atmosfera, tecnico delle luci? Ho sbagliato. Oh, Lampard. Stai a posto. Ciao a posta. Odimmi, fammi cosa. Gira, ciao a posta. Un buco, cioè c'è un buco in stasera. Ah, io caro me lo sono ricavato, andate tutti a far culo che... Dai, spostati però che metto il culo su. Eh, c'ho da patate, eh. Oh, oh, c'ho da patate, prendi la sua. Cosa vuoi? Al purè? Ma perché lo metti su tutto, Pietro? Perché la fa schifo qua? Mi metti su tutto il tuo? Lo metto su, metto su. Dai, no, smetti di fare quel video qua del cato, ok. Ah, no, ma poi già hanno pulito con i banchi. No, almeno qua, almeno un peggio. Fa un cazzo di usare il bello. Eh, c'è, non hanno cambiato l'acqua delle sue mani. Così sono un tiro al coso. Non hanno cambiato le sue mani. Eh? Non hanno cambiato le sue mani. Non hanno cambiato le sue mani.